con molta chiarezza. A me pare che il ricorso fatto contro la squadra sia, non voglio dire campato in aria, ma diciamo molto poco sportivo. Fare un ricorso legato alla vicenda che riguarda un infortunio di un giocatore in campo che è stato ricoverato in ospedale, ha avuto credo 15-16 punti, una ferita importante in testa, è diavolo. E parliamo di sport, e possano ammazzare, e se parlavamo di guerre commerciali, e che succedeva? Mi pare non gradevole questa iniziativa fatta nei confronti della squadra e spero ovviamente che sia respinto questo ricorso. Contemporaneamente un grande in bocca al lupo alla squadra, ai giocatori, sperando che questo cammino nel quale siamo impegnati non sia interrotto da piccoli incidenti come quello che ha tentato di mettere in piedi il Sora. La squadra è forte, nonostante i tempi che abbiamo avuto per attrezzarla, siano stati ridottissimi, credo onestamente, per quello che posso capire io, non sono certo un esperto, ma credo di capire che sia la formazione più attrezzata di tutto il campionato. È ragionevole sperare che possiamo uscire quest'anno dalla dalla serie D, come diavolo si chiama, e imboccare una strada adeguata a quello che è oggi la città di Salerno. Mi pare ragionevole poter sperare che sulla base di un programma serio, serio di sviluppo sportivo, possiamo darci delle ambizioni all'altezza di quello che è oggi la città di Salerno in Italia. Poco sportivo il ricorso del Sora.